benvenuti in un nuovo video di aggiornamento per quanto riguarda le nuove implementazioni e le novità di magic the gathering arena il prossimo aggiornamento è abbastanza vicino è stato annunciato ieri e ci sono parecchie novità quindi andiamo velocemente a discuterle insieme dovrebbe essere live il 7 giugno che vuol dire che per noi in italia più o meno dovrebbe essere in genere aggiornando il pomeriggio qui da noi o almeno finora è stato sempre così bene partiamo la grandissima novità è che verranno introdotte nuove espansioni all'interno del del gioco e sono tutte quelle che erano rimaste fuori dal formato standard ovvero kaladesh e the revolt e anche il welcome deck del 2017 quindi a questo punto il gioco è definitivamente completo per quanto riguarda il formato standard ovviamente una delle conseguenze di questa cosa è che anche la lista delle carte bandite sarà implementata e funzionerà in pieno diciamo le carte bandite sono attualmente queste visto che si parla di una quantità di carte notevole perché sono tre espansioni alla fine diciamo due e mezzo perché quel con deck non sono paragonabili come grandezza le espansioni però comunque hanno la loro bella serie di carte per rendere quindi dicevo le cose più semplici e ogni giocatore riceverà due copie di ogni carta common e uncommon di tutte le espansioni introdotte nuove in questo aggiornamento e in più una copia di ogni carta rara e mitica oltre a tutto questo ci sarà un set di 15 carte miste che provengono da tutte le espansioni di cui potete avere un'idea da questa immagine e tra queste 15 carte verranno scelte casualmente quattro carte e queste queste quattro carte saranno aggiunte alla libreria del giocatore quindi questo è un modo per diciamo far familiarizzare i giocatori con le nuove espansioni senza catapultarli in un mare di di carte meccaniche che magari non conoscono altra grossa novità che mi fa molto piacere per quanto mi riguarda è che i quick draft saranno sempre disponibili quindi non saranno più nei soli weekend ma troverete il pulsante attivo 24 ore su 24 tutti i giorni questo per me è un ottimo miglioramento perché comunque io ero vincolato al weekend e anche a livello organizzativo non era semplice trovare sempre il tempo di registrare montare e tutte cose quindi sono molto felice di questa cosa il set che si andrà a draftare quello si cambierà di settimana in settimana quindi ogni settimana avrà un set specifico un'altra novità legata ai draft è che l'intelligenza artificiale che ricordo essere attiva solo per quanto riguarda la fase di drafting subirà degli aggiustamenti non ne hanno parlato in modo più specifico però comunque suppongo che l'abbiano migliorata un po in effetti mi è capitato spesso di trovare carte rare o comunque carte molto forti spesso appartenenti allo stesso archetipo o alle stesse meccaniche nelle fasi successive di una stessa bustina cosa che non è diciamo verosimile perché una persona in carne e ossa le avrebbe quasi sicuramente draftate saranno introdotti eventi competitivi del tipo best of three quindi quelli proprio con la sideboard e al meglio delle tre partite sia constructed che draft il costo di partecipazione di questi eventi sarà più alto di quelli che abbiamo visto finora però ovviamente anche i premi saranno più appetibili in futuro wizards ha annunciato che verranno introdotti eventi best of three diciamo in una fascia di livello più casual quindi senza costi di entrata ovviamente con dei premi un po inferiori però in modo da far competere anche persone che non hanno o possibilità di accedervi oppure non si sentono sicuri per quanto riguarda i mazzi che hanno costruito altra grande novità per quanto riguarda gli eventi è che sarà introdotto per il momento in veste sperimentale il formato singleton che è un formato che personalmente mi ha sempre affascinato e che reputo molto intrigante perché è quel formato allora non lo sapeste in cui ogni mazzo può essere composto solo da carte in singola copia ovviamente a recessione delle terre quindi alla fine c'è molta più strategia è possibile anche sfruttare sperimentare carte che magari normalmente in un mazzo classico constructed e standard non non avreste messo perché non so forse debole oppure che ha poca sinergia oppure perché essendo più limitato il la pletora di carte che potete inserire ci sono carte ovviamente che potrebbero funzionare meglio quindi questo è un formato da tenere sicuramente d'occhio poi passiamo alle novità diciamo minori ma comunque sempre importanti ci saranno degli aggiustamenti a reward giornalieri e settimanali questo per venire incontro a chi conta quasi esclusivamente o principalmente su quelli per guadagnare gold perché magari non ha un mazzo constructed che sta costruendo e non ci si sente troppo a suo agio e non è sicuro di partecipare a un evento che comunque ha un costo e segue delle regole specifiche questa è una cosa molto buona ci sarà un nuovo oggetto acquistabile nel negozio indirizzato ai nuovi utenti che si chiamerà welcome bundle e per 5 dollari si avrà a disposizione una serie di booster pack e alcune gemme questa è un'idea simpatica il sistema di matchmaking verrà aggiornato non è non c'è stato detto in di preciso le modifiche che verranno effettuate perché hanno detto che sono talmente tante e talmente complesse che probabilmente verranno affrontati in un comunicato apposito comunque per il momento sappiamo che per questo motivo tutti i rank verranno azzerati quindi dal 7 giugno si riparte tutte dal livello dal primo livello però la differenza è che i giocatori affronteranno prima di tutto una serie di partite di piazzamento per determinare il grado iniziale da cui poi partiranno nelle partite effettivamente ranked infine hanno annunciato che ci saranno alcuni miglioramenti grafici di interfaccia quindi è un aggiornamento del menu di sistema che in effetti era iniziava essere un po datato e poco complesso e poco flessibile bene per questo aggiornamento è tutto ovviamente ci vediamo sicuramente dal 7 giugno per vedere live tutte queste succulente novità e poi in settimana nella settimana prossima comunque con i soliti video in programma ciao a tutti grazie ciao a tutti